Una presentazione, quella dei candidati della coalizione del centro-sinistra delle Marche, introdotta oggi dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci, padrone di casa della sala del Consiglio Comunale, in cui è andato in scena l'incontro. PD, più Europa, Alleanza Verdi e Sinistra e Impegno Civico. Quattro partiti con 20 nomi candidati alle prossime elezioni politiche. Tra questi compare quello di Giordano Masini, candidato di più Europa nel collegio uninominale alla Camera della provincia di Pesaro Urbino. Sto prendendo questa sfida molto seriamente, non dal punto di vista personale, ma per questo paese e anche per questo territorio. Stamattina sono andato a incontrare degli armatori al porto di Fano e mi sembra molto difficile che esponenti del centro-destra potranno spiegare loro le ragioni per cui hanno mandato a casa, in questo momento specifico, il governo Draghi. Di cui i lavoratori e le imprese avevano bisogno per fronteggiare il caro energia, per fronteggiare i problemi strutturali dei loro settori economici. Il governo Draghi stava procedendo a una riforma fiscale utile, necessaria a questo paese. Lo hanno mandato a casa per tornare a promettere di flat tax e di altre cose che non realizzeranno mai. Ecco, io credo che noi dobbiamo ripartire da quel punto lì. C'è ancora bisogno della credibilità internazionale ed europea di Mario Draghi e noi faremo di tutto per riportarlo al suo posto. Il centro-sinistra è una coalizione forte, quella che serve per fronteggiare il centro-destra? Secondo me è una coalizione forte. Noi avevamo tentato in federazione con Carlo Calenda e con Nazioni di renderla ancora più forte. Calenda ha preso una decisione differente che noi riteniamo sbagliata e autolesionista. Nonostante questo, noi siamo come più Europa, io sono il coordinatore nazionale della segreteria, ma sono qui come candidato della coalizione, quindi parlo da candidato della coalizione. Ma come più Europa abbiamo deciso di ribadire la necessità di una presenza su questo fronte liberal-democratica ed europeista autonoma. Quali sono i punti cardine su cui è fondata la vostra campagna elettorale? Ma europeismo, diritti civili, innanzitutto è la storia di Emma Bonino che la racconta per noi. Noi diciamo sempre che sui diritti o si va avanti o si torna indietro, non si rimane mai fermi sullo stesso punto. E lo dimostra quello che sta succedendo nelle Marche e di cui si è parlato molto in questo periodo, ma anche quello che sta succedendo nell'Occidente. E poi c'è il problema generazionale, noi siamo per l'equità generazionale. Il mio slogan, quello che se dovrò fare dei manifesti scriverò sui manifesti, è per una politica come se ci fosse un domani. Perché le forze politiche ci hanno abituato a slogan come se la politica dovesse guardare solo al presente, come se il futuro non ci fosse, come se il debito pubblico non lo dovesse ripagare nessuno. Noi pensiamo che la politica debba ripartire anche dalle necessità e dai diritti di chi ancora non vota e che si troverà invece a pagare un conto molto salato degli sprechi e delle cattive politiche del presente.